Benvenuti cari follower, se il tempo è molto brutto. Con abbondanti nevicate in pianura e a quote molto basse in Italia domani, venerdì 8 dicembre 2023. Ma prima di entrare nei dettagli, non dimenticatevi innanzitutto di sostenerci con ammirazione per questo video. Perché il canale sta ancora affrontando alcuni problemi tecnici e i video non raggiungono tutti i follower. Quindi sosteneteci, ammirando questo video, affinché appaia al maggior numero possibile di italiani. Grazie. Domani venerdì si formerà un fortissimo temporale sull'isola della Sardegna, che porterà con sé tempo molto brutto con pioggia e forti temporali sull'isola della Sardegna, ma porterà anche abbondanti nevicate sull'Italia nord-occidentale. E nevicate cadrà a quote molto basse con una forte ondata di freddo e gelate. Domani, venerdì, quindi, nevicate abbondanti in Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trento Alto Adige, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna occidentale, Toscana settentrionale. La neve sarà più forte nelle ore centrali della giornata e continuerà a mezzanotte, con tempo freddo e stabile sul resto delle regioni. Qualsiasi altra notizia importante, proveremo ad aggiornarvi più tardi.